Ragazzi da TFG on the man da oggi io e Rinnegan ci sfidiamo a colpi di pozioni e missili L'abbiamo deciso facciamo una roba stupida ci sfidiamo Una roba estremamente stupida E non dobbiamo usare truppe ma solo le pozioni quindi il mio deck Aspetta un attimo siccome tu hai 6 pozioni praticamente Eh io ho 6 pozioni Se no tu ne hai 4-8 quasi Rinnegan invece potrebbe... Io purtroppo ho... Io ho il missile Boh tu puoi usare il barile Io ho il missile, le frecce, la fireball La fireball, il missile E il barile E il barile ok Io poi si sono ne 4 Boh però è il barile che fa tanto danno il barile Eh certo Fa tanto danno Allora andiamo subito sulla chat Ah Michele è pronto 3, 2, 1 iniziamo vai Ok ragazzi abbiamo iniziato Valle degli incantesimi Arena 5 Allora siccome lui ha più roba di me Sì Lui deve attaccarmi direttamente le prime due E dopo attaccarmi la centrale Io posso attaccarlo direttamente in quella centrale Esatto Devo buttare giù prima quelle forti diciamo Ti butto subito una veleno La veleno guarda che... È fortissima La veleno? La veleno è fortissima Ma non sta a pensare Ma non dire corbellerie Sì ma non vale quei goblin subito Eh va bene scusami E io guarda cosa devo mettere adesso Perché non ho nient'altro Frecce Adesso c'è anche la carta specchio È vero Quindi posso trattarti due missili di fila Penso a un po' che botta di fortuna hai Che botta di fortuna Attenzione Tutti ho frecce per la mia torre Io non posso buttare niente ancora Ok Ti butto il missilone Missilone per Rinnegan Boom Pala di fuoco Fireball Parapaparapam Aspetta Non so cosa fare Ma se io metto la furia E poi Eh no non funziona Non diciamo Aspetta che posso mettere un altro razzo Due razzi di fila Razzo versus razzo Sì ma guarda quanto Cioè io Eh boh guarda che sei Hai due mila e trecento di vita eh Ma che ti manca tantissimo Eh no Vuoi vedere quanto mi manca Allora buttiamo Aspetta Tu due missili mi butti giù quella roba lì Oddio mio Tu due missili Quella roba lì me la butti giù Adesso ti furmino i goblin Appena metti i goblin Io te li furmino Non vale Eh sì che vale No di attaccarmi Guarda cosa devo fare Perché non ho Io devo mettere questa Perché non ho le pozioni Quindi per liberare spazio Devo fare così Ma la velena Quanto ti toglie adesso Tantissimo toglie Trecento e quarantuno Mi butta giù tutto Eh buttiamo Aspetta Io aspetto una Eh no vedi Non te la butta giù Eh beh ma ci mancherebbe anche Adesso devo usare Cento e novantuno Eh la furia Io la furia Non la posso usare Guarda che mi tiri la fireball Eh vabbè Io cosa devo dirti Ok adesso tiro un'altra freccia Un'altra frecciatina Spaff Trecento e ventiquattro Dio mio Guarda che butto il cannone Così magari deve Splicare un po' di danno Fireball Sì Si parla tu sei già a metà Scusa Ma guarda quanto roba Mi manca ancora Aspetta 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 Non vale Ma non vale Ma sei Ehi siri Ehi siri Ehi siri Non puoi giocare Beh non vuol dire niente E ti butto la veleno Guarda che roba Andiamo la veleno Due veleno Guarda che bello Due veleno di fila Posso schierare Eh penso un po' Eh no no Contesto Oh ma ti sto colpendo Contesto Eh mi dispiace Il cosa è invalidato Cosa? Eh no non potevi Mi stai colpendo Tutti e due Non l'ho fatta a posto Eh no l'hai fatta a posto Guarda avete visto cosa l'ho fatta Smettila di fulminare i goblin Non ti ho fulminato i goblin Hai 20 secondi per buttarmi giù Un mille di vita Eh non ce la farò mai Eh non l'hai detto Eh non l'hai detto Ma non dire 720 Attenzione a missile Guarda guarda La capocciera è in bomba Adesso è a maneto Nooo Cos'è sta Cos'è sta Cosa è sta caponeria Che cosa? Sei un caffone No eccolo Di nuovo L'ho visto L'ho visto Hai visto cosa hai fatto Ho vinto Ho vinto ragazzi Ho vinto No però secondo me Se non ti fulminavi i goblin Avresti vinto Rifacciamo 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 Anche giusto Quindi io direi Subito di partire Con una bella Palla di fuoco Esatto E due palle di fuoco Guarda tu parti sempre col mischio E qui devo giocare velocissimo io Dove riuscire a buttare giù Più roba Eh grazie Grazie Non l'ho capito Far tanto più male E poi adesso Se io metto una Adesso voglio capire un attimo Cosa devi capire Se non dicendo Basta metti le robe tu Ma i goblin sono troppo forti Non è giusto Ma stai buono Cosa stai dicendo Non dire corbellerie I goblin sono troppo forti Dai 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 Ecco che mi colpisce di nuovo Ma non lo faccio apposta Ma fai apposta Ma tolgo niente Cingardo Togli sempre qualcosa E vabbè E tu pensi Guarda cosa devo fare io adesso Dove mettere questo qua Cosa che si è messo Ma non lo devo mettere Perché non ho spassi liberi Adesso io metto il razzo E ho la carta specchio No non ho la carta specchio Quindi boom Il razzo Quanto toglie Bum È parecchio Eh grazie Toglie parecchio Toglie parecchio il mio razzo Toglie parecchio il tuo razzo Sì Mi fa piacere che il tuo razzo tolga parecchio Ecco 2600 a 2300 di vita Toglie il tuo razzo Schifoso Eh vabbè Stai buono Che tu sei troppo brava Che tra l'altro Prima di iniziare il video Ha fatto potenziare un po' La palla di fuoco L'ho potenziata Eh io invece non posso potenziare niente Ti rendi conto Cosa devo fare Ma il fulmine Tipo quanto toglie il fulmine Vediamo Vediamo 700 400 300 toglie il fulmine Sembra poco Vediamo quanto tolgono i miei goblin Eh i tuoi goblin 2200 Arrivano Eh 300 No 300 Le palle Sembra poco Tanto Eh sì Sì ma ti ricorda Che te basta buttarmi giù Una torre per vincere Perché non riesco a buttarti giù La torre centrale Eh ma se tu butti giù la torre centrale Poi hai vinto Tu hai un minuto e venti ancora Tanto ho messo la fulmine Guarda che bene E in più adesso ti schiero anche Una bella veleno Che 200 di vita dovrebbe toglierli Vediamo un po' Perché la metto lì così Prendendo due le torri Guarda che vai Eh dopo dici che non l'ho fatto apposta Eh non l'ho fatto apposta Stai buono Mi sfuggi Dai 100 di vita 89 70 51 32 13 13 di vita Non ci chiedo Ok butta giù la torre Ok perfetto Adesso buttiamo da questa parte Il razzo Il razzo man E la palla di foco man Oh attenzione i goblin Hai 50 secondi Adesso puoi schierare la manetta Però pure il brutto Dai 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 No cosa Mi è partito per sbaglio Mi è partito per sbaglio Ti giuro Non l'ho fatto apposta Che infame Ma scusami non ho mica fatto apposta Eh no certo No è vero Non ho mica fatto Ecco di nuovo Non l'ho fatto apposta Con me ne hai ragione Bravo 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 Oddio 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 Cosa faccio qua 600 di vita Ho perso ragazzi Eh sì Eh mi sa che ho perso Eh già proprio Ho perso 26 secondi non riesco a schierare nient'altro Dai 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 Missilone Missilone No Quello mi toglie 300 di vita Dai non posso schierare niente 300 di vita 67 secondi Ok scarica Frecce Di tutto Dai No Dai 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 Veleno Dai Dai Missile party No Dai Sei Palla di fuoco Sì Che culo Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Tanti Mi piace Se volete altre sfide Stupida Se volete altre sfide Stupida Consigliatela nei commenti Da fare tra me e rinni Aspetta Andiamo avanti con le capanne O solo capanne Ciao a tutti E al prossimo video Ciao